La prima domanda, sei l'interno o l'interno? No, sono sicuramente l'interno, ma mi piace giocare con l'interno. Ho sempre fatto la giocare con le due lecce, ma ho visto che mi faccio tre giuste con l'interno. Mi preferisco l'interno, ma posso usare l'interno. Sei soddisfatto con questo match e l'attitudine della squadra? No, credo che venivamo qui per vincere. La prima domanda era un pochino, e avevamo un gol molto nonlucchiato, quindi in fine abbiamo bisogno di combattere, e abbiamo fatto. Credo che siamo ok con l'interno. Vediamo che è un stadio difficile e un posto da giocare, ma in fine vogliamo vincere. Ma siamo ok con l'interno di oggi. Questo è un altro percorso per il nostro principale? Sì, ovviamente, non è un gioco. Siamo ancora vicino per ogni gioco, quindi ogni gioco è molto importante. E ovviamente oggi, come ho detto, vogliamo vincere. Ma il nostro punto in Napoli è anche una cosa ok per continuare. Vuoi dire qualcosa in italiano per noi? Che vuoi dire in italiano? No, in italiano è una domanda, ma dire qualcosa sono solo parole. È meglio? È proprio meglio, è sempre la stessa. E gioca, gioca, è sempre la stessa. Ok, grazie. Quanto importante è questa partita? È importante. Certo, volevamo comunque fare di più. Però è un punto importante. Tutti i punti sono importanti da qui alla fine. Contro una squadra forte, in uno stadio difficile. Quindi ci teniamo questo punto stretto. È stata una partita difficile. Una gara molto, molto combattuta. Te l'aspettavi così? Sì, sì. L'Oreo sono una grande squadra, hanno grande qualità. Giocano bene a calcio. Però noi oggi, penso, siamo entrati in campo. Abbiamo dimostrato che anche noi sappiamo giocare a calcio. E quindi è stata una bella partita. Una partita dura. Ecco, adesso è un mattoncino in più questa gara per l'obiettivo straordinario che vogliamo raggiungere. Certo. Come ho detto, tutti i punti sono importanti per l'obiettivo finale, fino alla fine del campionato. E nulla. Ce li prendiamo. Come ho detto prima, ce li teniamo stretti. E ora ci sono altre partite importanti e cercheremo di vincerle. Ehi, non dimenticate di iscriverti al nostro canale YouTube. Hi, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Ehi, non olvides suscribirte al nostro canale YouTube. In mental probiamo! Ir Wis集 100 anche. Alla prossima! Great! Ad Grazie.